buongiorno a tutti con il maestro Caruso e con Mauro Carpi continuiamo a parlare di musica e di musicisti di talento quindi oggi assieme al maestro Caruso e a Mauro Carpi abbiamo anche Fabio Crescente che è docente di basso elettrico jazz al conservatorio di Palermo abbiamo Giuseppe Vasapolli compositore docente di jazz anche al conservatorio di Palermo e Riccardo Orlandisi pianista docente di pianoforte jazz al conservatorio di Palermo. Allora buongiorno anche a voi. Buongiorno. Una scelta particolare Carmelo sicuramente valuta da Mauro perché visto che parliamo di jazz con lui ne abbiamo parlato tante altre volte ma io vorrei riparlare con piacere visto anche i personaggi che abbiamo in collegamento. Voglio ricordare uno per tutti in questo caso Riccardo Orlandisi perché mi fa ricordare suo padre un grande della musica siciliana italiana. Grazie. Grazie per il po' conoscere e di essere amico suo. Certamente parliamo di tanti anni fa. Allora Carmelo se vuoi introdurre questo nostro incontro ne sarei lieto. Allora dato la portata dei nomi e diciamo si introducono da soli come si suol dire perché ciascuno di loro ha sviluppato a parte animato il dipartimento jazz del conservatorio palermitano di cui mi onoro essere stato il promotore e quindi loro hanno iniziato l'attività proprio durante la mia direzione perché fortemente evoluto da me quando diciamo il testimone è stato lasciato da Ignazio Garcia che passava dalla fase attiva alla fase di pensionamento ed era molto attivo allora come oggi con il Brass Group, associazione storica che si è sempre occupata di jazz, forse l'unica diciamo di un certo livello in Sicilia e allora poi abbiamo iniziato questa fittissima collaborazione da lì e tu sai bene che una delle mie dei miei punti cardine è stato sempre l'abbattimento degli steccati e portare la musica tra virgolette extracolta alla portata di tutti anche per un interesse come dire non troppo nascosto che era quello di fare capire che la musica è una e che quindi da questo si poteva tranquillamente veicolare la scelta anche verso altri orizzonti nel caso dei questi nomi diciamo sono nomi che non hanno bisogno della mia presentazione perché sono noti a tutti hanno da partendo proprio da Riccardo Randisi che oltre a essere il figlio di Enzo vive di luce propria perché Riccardo è un pianista straordinario insomma uno che si è esibito con i più grandi artisti di tutto il mondo e che suona il pianoforte divinamente bene anche lui viene da una formazione classica e poi ha maturato la scelta come giusto che sia Fabio Crescente nasce come contrabbassista classico poi diciamo che prende anche lui questa questa direzione con risultati straordinari perché ha il suo percorso è un percorso diciamo che nasce tra virgolette dalla gavetta in senso nobile del termine e arriva a proda verso gli obiettivi più importanti del jazz non solo siciliano Mauro Carpi non c'è bisogno che te lo spiego perché lui è come dire ormai un ospite fisso eccetera Giuseppe Vassafolli l'ho lasciato per ultimo non a caso perché è il più come dire no poliedrico tutti sono poliedrici ma Giuseppe è quello che apre con molta intelligenza lo sguardo allunga lo sguardo verso anche la musica da film e lui è un compositore straordinario insomma recentemente ha vinto proprio poi te lo dirà lui e lo dirà ai nostri ascoltatori lui ha vinto numerosissimi concorsi importanti con delle colonne sonore veramente scritte no bene più che bene eh di altissimo livello ha studiato in America ehm insomma è conosciuto ovunque e insegna al conservatorio eh se non ricordo male orchestrazione ehm lui si occupa anche della fase diciamo che riguarda l'orchestra la costruzione dell'orchestra la gestione dell'orchestra se non ricordo male ma poi te lo dirà lui insomma sono eh quattro personaggi di grande spessore che il jazz palermitano siciliano e italiano ha il piacere l'onore di avere come docenti quindi sai mh con una punta di orgoglio lo rivendico perché ancora una volta ho visto bene allora lo facciamo rivendicare tranquillamente senti Mauro è un argomento che per la verità abbiamo trattato però oggi è opportuno sentire il parere anche degli altri c'è la musica è tutta una dice sempre Carmelo lo dice sempre noi l'abbiamo sempre pure sostenuto questa sua tesi però in effetti il jazz viene guardato sempre in un determinato modo è come se fosse un altro tipo di musica qualche cosa di diverso almeno questa è l'impressione che avevo pure prima io chiaramente sbagliando ecco quali quali sono stati diciamo i passi che sono stati fatti ulteriormente per far comprendere invece quanto afferma Carmelo che la musica è tutta una se siamo riusciti col jazz a far capire questo sì di fatto è già prima per esempio il jazz per me era solo randisi così ma di fatto randisi randisi con il quale io mi pregio di aver suonato a lungo è stato uno di un pioniere del jazz siciliano insieme a garcia lo cascio insomma sono in qualche modo quelli che hanno portato il jazz in sicilia così come in italia è stato diciamo sdoganato da da patruno lo freddo romano mussolini e altre altri personaggi che molti dei quali non ci sono più come romano franco cerri carletto lo freddo e in sicilia questo fenomeno è stato è stato portato da questi grandi interpreti fra questi anche il mio amico che non c'è più enzo randisi per lo meno tu sai quante difficoltà lui aveva perché ho vissuto alcuni momenti in cui non riusciva a far capire qual era il senso della sua musica e il talento che aveva anche nella classe politica molte volte vi incontrava numerose difficoltà certo infatti io ti dico che in tutto questo tempo quando ero piccolino e studiavo in conservatorio a trapani e ogni tanto mi cimentavo con qualche collega a fare qualcosa che non era fra virgolette di tradizionale di classico di manieristico e venivamo in qualche modo rimproverati quando questo veniva scoperto del nostro dal nostro allora direttore maestro popolardo in tutto questo tempo però in effetti abbiamo visto cambiare le cose perché ci si è reso conto che probabilmente per fare il jazz ci vogliono ci vogliono grandi capacità io dico sempre che per fare la musica classica devi studiare devi studiare a lungo e in un modo o nell'altro ci riesci perché certamente dando per scontato un requisito di base che diciamo una discreta musicalità questo non succede sempre col jazz quindi non tutti possono fare il jazz questo intendi dire esatto esatto e che ci vogliono anche altre attitudini che non possono essere studiate che non possono a volte essere anche insegnate noi siamo soltanto persone che danno dei consigli perché come fai a spiegare lo swing o a spiegare l'energia che è intrinseca al jazz per cui eh ci vogliono altre attitudini questo nell'arco del tempo devo dire che è stato capito e adesso i jazzisti hanno secondo me non pari dignità rispetto alla ai musicisti di musica classica anzi addirittura veniamo guardati come come coloro che sono andati anche oltre eh diceva petrucciani e poi mi taccio che il jazz è la musica classica del duemila secondo me aveva perfettamente sentiamo il maestro crescente cosa ne pensa però volevo pregarlo appunto sempre di abbassare un pochettino il monitor per essere più però pochissimo perfetto così così e allora continuiamo su questo argomento il il basso elettrico è uno strumento relativamente giovane nasce nel 52 quindi ha una storia eh circa 70 anni e l'evoluzione della sia della tecnica dello strumento l'evoluzione della didattica che è quella che personalmente mi riguarda perché dal 2010 che sono eh che sono in conservatorio con questa veste però l'altro credo che il conservatorio di Palermo sia stato il primo conservatorio in Italia che abbia fatto la prima laurea di specialistica indienio per per basso elettrico tra l'altro ricordo a proposito di quanto dicevamo prima che è stata fatta con l'orchestra c'è un un strumentista di jazz uno studente di jazz che viene accompagnato da un'orchestra sinfonica per per la laurea una cosa quindi è una commissione è una commissione azzeccatissima questa una storia dicevamo non lunga è una continua evoluzione della della didattica e credo che ancora ci sia spazio per per fare crescere ulteriormente questo questo strumento e continuiamo con Giuseppe Vasapolli e poi su questo argomento sul ruolo del jazz sì diciamo che farei una precisazione anche a livello un po regionale che può anche facendo una battuta che c'è il jazz o jazz cosiddetto nel senso che il jazz è una musica talmente alta e in una situazione molto di borderline che può diventare una musica da direttante oppure una musica estremamente colt che va come diceva Mauro Carpi oltre la musica classica perché per farlo bene ovviamente richiesta una competenza tecnica strumentale che si fa con l'ambito classico ma poi anche una capacità compositiva creativa improvvisativa che va veramente oltre questa preparazione appunto strumentale il problema è che il jazz avendo l'improvvisazione come sua caratteristica principale può diventare ahimè sinonimo di approssimazione cioè l'improvvisazione dice vabbè tanto è improvvisato facciamo quello che vogliamo invece l'improvvisazione è una composizione estemporanea e quindi ripeto molto complicata da da parte e richiede una grande maturità conoscenza armonica e tematica un po mi volevo collegare al discorso di Mauro Carpi riguardo la didattica del jazz e parzialmente mi sento di di sentire sul fatto che il jazz non si può insegnare e sono d'accordo sul fatto che il jazz sia complicatissimo da insegnare proprio per questa sua estrema ampiezza di contenuti però spesso mi sono reso conto del fatto che non mi sosteneva che bisogna essere portati questo se anche su quello non sono non sono d'accordo al cento per cento secondo me chiunque può imparare lo swing imparare l'improvvisazione il problema è che spesso mancano dei metodi chiari didattici di insegnamento perché anche è un diciamo un linguaggio relativamente ma i metodi mancano al conservatorio di palermo oppure in generale io parlo veramente di una didattica mondiale ma sì sì non ho proprio vedo anche altri altre realtà siena jazz vedo altre realtà europee italiane su jazz e spesso vedo che palermo lo dico con una punta di orgoglio è addirittura avanti per tanta didattica però generalmente c'è proprio una lacuna di metodologie perché allora il jazz o si impara dai dischi e quindi è proprio un percorso come si dice da imitazione nel senso più bello perché l'imitazione del linguaggio e quindi chi ha quell'impulso quel talento quella musicalità e quella diciamo intelligenza riesce accogliere mauro riesce accogliere chi magari non ce l'ha arranca e quindi poi abbandona però chi non ha questa capacità immediata supportato dalle metodologie potrebbe sicuramente riuscire a improvvisare a suonare bene lo swing e tutto questo linguaggio io diciamo un argomento ha introdotto un argomento molto interessante poi vorrei che carmelo iniziasse a parlare anche di quanto appunto posto la giuseppe vasapolli però prima facciamo parlare riccardo nisi però dobbiamo pregare di attivare il microfono perché vedo che è spento eccomi qua sono in conservatorio sono sto in classe con un allievo parlando di improvvisazione con il maestro vasapolli perché come si studia composizione si può studiare la cosa composizione è diciamo estemporanea perché bill evans diceva che una composizione di pochi minuti elaborata da un musicista classico richiede parecchio lavoro di limatura di di modifiche magari il giorno dopo no questo accordo non mi piace no questa frase non spiega bene il mio sentimento la ricambio e cosa tutto quanto noi invece siamo ai noi costretti a a a a cercare di sforzare e questi di sforzarci di comporre in questi in questi pochi minuti che ci sono mio padre si è disinteressato a me quando eh non è stato quello che mi ha mi ha imposto di suonare di avvicinarmi al jazz lui era un attento scrutatore di ciò che io facessi poi un giorno quando cominciai a strimpellare e dice va bene ora ti do lezioni di jazz che significa lezioni di jazz per lui sediti qua accanto guarda e ascolta perché eh o oltre allo studio oltre alla alla preparazione tecnica e cos'è capire il linguaggio è come se uno va al linguistico poi va all'università prende la laurea in lingue prende la magistrale in lingue e poi che cosa fa se ne va in Inghilterra perché se non va a fare se non va a fare se non va a fare tirocinio e conversation non capisce niente perché sto dicendo questo sto dicendo questo perché eh anche se il jazz è stato istituzionalizzato con i conservatori quindi è una materia al pari livello della classica i musicisti classici hanno più opportunità Carmela allora su questo argomento ci hanno introdotto argomenti importantissimi che dobbiamo approfondire anche se velocemente però mi sembra opportuno allora in realtà sia tutti e quattro hanno detto praticamente la stessa cosa partendo da posizioni diverse in realtà quando un linguaggio assurge ai livelli di linguaggio appunto strutturato necessita di un percorso che del percorso che indicava Giuseppe Vassapolli perché non si può immaginare che l'improvvisazione noi non dobbiamo dimenticarci da dove parte il jazz non è che loro non dobbiamo dimenticarci neanche da dove è partita la musica classica quella che noi chiamiamo musica classica quindi se dimentichiamo questo allora tutto diventa come dire frutto di disquisizioni teoriche se noi invece guardiamo la storia e l'evoluzione di questo in caso specifico di questo linguaggio naturalmente dobbiamo partire dal concetto che prima nasce la pratica e poi nasce la teoria non è mai il contrario quindi Vassapolli ha ragione quando dice oggi tutti potrebbero potenzialmente attingere a questo tempo dice che non è una didattica appropriata non è una relativamente giovane e perché ancora i margini di improvvisazione non sono così ben definiti a mio modestissimo avviso perché o si passa dalla improvvisazione sublime e si arriva si può anche arrivare come diceva mi pare sempre ma un po tutti questo lo dicevano si può arrivare anche a forme assolutamente elementari che naturalmente il jazzista evoluto non contempla più ma naturalmente noi siamo in questo momento stiamo teorizzando è la stessa cosa che hanno fatto i padri della musica classica la teoria è arrivata dopo ma non è che prima cantavano pensando a come l'armonia l'armonia è stata codificata dopo è passata dalla modalità è passata e via dicendo cioè è un percorso che l'uomo razionale l'uomo occidentale fa sempre tende a razionalizzare ma nel caso del perché tu dici l'uomo occidentale perché l'uomo orientale non ragionerebbe mai così funziona su altri parametri l'uomo occidentale ma la storia dell'uomo occidentale è questa è razionalità lo stato puro quindi tutto viene spiegato quindi guarda dentro se stesso e dice perché e questo cosa gli consente di andare oltre alla mauro cosa risponde a giuseppe vasapoldi dicendo che chiaramente giuseppe sa benissimo che la mia stima per lui è immensa e sono d'accordo in parte con quello che dice ma quando io mi riferivo al fatto che il jazz non può essere insegnato chiaramente era diciamo lo dicevo in senso lato nel senso che se uno non ha delle attitudini come quella del riconoscere l'accordo o quantomeno diciamo le funzioni principali dell'accordo se non ha questa carica di energia non è che non possa fare il jazz o lo swing lo può fare ma chiaramente non potrebbe mai diventare diciamo un fuoriclasse del jazz perché perché non ha le attitudini principali poi chiaramente sulla didattica potremmo parlare a lungo lui è uno di quelli che ad esempio che sta dando lustro al conservatorio con i suoi insegnamenti che sono veramente altissimi è chiaro che questo diciamo prescinde dalle dalle qualità di ognuno dei suoi alunni come ognuno dei miei quando dicevo quello io chiaramente era quasi una provocazione perché dicevo che bisogna avere delle attitudini ma quello succede praticamente in tutto anche nella musica classica si parte dei requisiti senza i quali senza i quali non si può andare avanti ecco per cui in linea di massima chiediamo la stessa cosa quindi sempre questo crescente ricca durante si sosteneva che la musica classica e favorito perlomeno chi fa musica classica e favorito rispetto a chi fa jazz questa sensazione sicuramente perché fornisce un bel grano che uno stato su cui poter edificare la la figura successiva è una sorta di evoluzione quella del classico principalmente fornisce la tecnica l'interpretazione la lettura altro elemento assai importante nel jazz che spesso a me è un po' carente infatti il nostro dipartimento di palermo insiste tantissimo su questi su questi aspetti che ho citato prima perché è importante strutturare l'allievo cioè fornire gli strumenti per poter esprimere un linguaggio improvvisandolo ma quindi il conservatorio agita compartimenti stagni oppure tra di voi c'è assolutamente no c'è molta e dico come la collaborazione questa sinergia in che termini avviene assolutamente sì le commissioni avvengono lo strumento jazz che può essere la batteria che questo è il piano forte questo è un strumento a fiato viene calato all'interno di piccoli ensemble di di classica o anche contemporanea c'è quindi c'è assolutamente un unione tra il a parte che c'è un ottimo rapporto tra tutti i docenti dei diversi dipartimenti quindi non ci guardiamo con con oggi parliamo anche di anche di repertori non ci sono barriere invece con vaso a volevo parlare della composizione perché chiaramente parliamo di composizione sempre jazz pure cioè non solo la composizione classica di musica classica o quella dei film ma anche la come mi risulta comprendere un pochettino difficile anche perché io non sono esperto sono appassionato ma non esperto allora sì anche questo argomento interessante faccio l'ultimissima mia riflessione sul discorso precedente di spesso come diceva maurio abbiamo abbiamo sembra la mancanza dobbiamo chiudere tutto velocissimamente dico che più che la musicalità che sicuramente c'è chi è più portato io ho notato è quello che fa veramente la differenza è la mancanza della curiosità cioè se uno studente curioso riesce spesso noi diciamo mascheriamo la mancanza di curiosità con una pseudo mancanza di musicalità però detto questo riguardo alla composizione jazz il mio punto di vista è che non esiste nel senso che la composizione è una composizione punto non è che la domanda la domanda proprio per questa verità cioè la composizione risponde a dei criteri di forma struttura senso melodico contrapunto tutte delle tecniche che sono musicali in senso lato proprio diciamo universali e quello che può essere la differenza è un discorso ritmico sonoro che ne so la composizione funky avrà delle prerogative ritmiche diverse ma rispetto a quella che ne so brasiliana e via dicendo cioè cambiano gli stile del linguaggio però la struttura di base è sempre la stessa è un buon insegnamento di composizione jazz e secondo me dovrebbe insegnare queste tecniche che sono universali più che focalizzarsi sull'accordo altera senza capire da dove viene qual è la sua funzione oppure tutto il discorso dell'uso in proprio delle scale però al fine di chiarire un po però al conservatorio musicale siamo messi bene cioè questo lo possiamo dire anche se diciamo come abbiamo detto poco fa la didattica non dovrebbe essere questa oppure io posso già posso parlare per la mia esperienza nel senso che quando insegno queste materie di composizione jazz cerco assolutamente di attingere alla grammatica della composizione generale che appunto si rifà il contrapunto all'uso delle trie di fatto in un certo modo alla condotta delle parti cioè non c'è la perché il problema è che la composizione c'è siccome l'improvvisazione jazz può diventare sinonimo di approssimazione queste siamo sempre riccato speriamo che arrivi la voce in maniera continua e quindi cerchiamo di concludere per poi eventualmente rifacciamo un altro collegamento magari in qualche altro giorno però cerchiamo di concludere su questi temi che abbiamo trattato ma non ho molto più da dire di ciò che è stato detto dai dei dei miei illustri colleghi devo dire la verità che comunque dal dal dipartimento jazz del conservatore di palermo del quale fra altre cose io sono il coordinatore ci stiamo dando un gran da fare e vedo che ci sono risultati tangibili per quanto riguarda l'alto livello dei di molti studenti che 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 escono dal nostro dipartimento devo dire la verità che il livello è molto alto per per fare alcuni numeri abbiamo un chitarrista che è considerato uno dei migliori al mondo matteo mancuso abbiamo abbiamo dei due batteristi che suonano uno con giovane e mila america e uno è diventato il batterista stabile di mario biondi insieme a un altro sassofonista siamo sulla strada buona perfetto fermiamoci qua perché purtroppo il collegamento non arriva bene però ci impegniamo a ricollegarci nuovamente in un'altra occasione buona giornata e grazie e complimenti grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti